Sta per cominciare la serie più bella su PES che abbiamo mai fatto E' una cosa proprio di quelle che non si è mai vista al mondo Se siete curiosi sapete che cosa stiamo parlando Per chi ancora non l'avesse percepito perché l'avevamo già detto in un video Sigla! Eccoci qua Oggi ti chiamo Cacciatore Perché Cacciatore? Hai visto come surta? Ah va bene va bene Ok Bella a tutti dal Gabone e dal buon Fabio Siamo tornati su PES 2017 Non ci sbagliamo perché il 2016 ormai è obsoleto Per una nuova incredibile serie Come potete vedere dalla grafica Questa è la squadra che abbiamo creato con il nostro account in comune Esatto il cosiddetto terzo account Che comunque c'ha Neymar C'ha Dzeko C'ha Goetz Se volete andare a vedere lo spacchettamento ovviamente vi lasciamo il link in descrizione Esatto Che cosa faremo con questa squadra? Allora l'abbiamo già accettato l'altra volta Vai Giocheremo una partita Tra virgolette insieme ma anche contro Nel senso l'obiettivo è sempre quello di vincere la partita Ovviamente Ci sarà una piccola sfida interna tra di noi Che consiste in questo Comincia la partita uno di noi due Esatto Appena ci sarà un'interruzione del gioco che possa essere fallo laterale Punizione Qualsiasi cosa che dà un pregioco Esatto Che ci dà il tempo di cambiare il joystick Passa a me il controller o a lui e viceversa Esatto Chi vince Vince quello che alla fine ha segnato di più E ha subito meno gol Per ogni gol fatto più uno Per ogni gol subito meno uno Va bene? Poi si fa insomma il conto Se tirano le somme E chi perde pagherà ogni volta una penitenza All'inizio del video successivo No niente penitenza Non mi rompiamo tioni Se farà Tu pensa Tu pensa però Se facciamo una partita nella quale Non facciamo niente in bollo Penitenza per tutti e due Eh sì Va bene? Se comincia Dateci un attimo di tempo Ci vediamo tra poco Sì Ragazzi per chi non l'avesse capito Perché non so se l'abbiamo detto Giochiamo alle divisioni Non è che fanno amichevoli Ok Vai Se parte dalla divisione 12 Perché questa è la prima partita Va bene così Sì 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 È già Perfetto Eccolo Avicadista Avicadista Partiamo al presupposto Che noi siamo Mantocchio Ve lascio immaginare Per quale motivo Ci chiamiamo così Oh questo gioco Contro piede Passaggio corto e pressing alto Va bene E noi con che giocavo? No Quello è proprio lo stile del gioco Che c'ha lui Vai Capito? Ho capito Va bene Vai Se comincia ragazzi Io non oso immagina Quello che può succedere Tanto ecco Tiro passa passa Eccolo qua La partita La caleta Balionpe 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 ho detto Sì Che cazzo vuol dire? Balionpe Sarà una parola azzuzza Sicuro Guarda Sarà tipo Te lo metto in mano FC Una cosa del genere Vai Hai dato il calcio D'inizio Mamma mia Devi essere pronto A passare il controllo Che se no Famo un bordello Ecco Gai Cominci a stare zitto Innanzitutto Che tu Si Fabio Li mortacci Tu Che te posso Fa Ma che te pensi Che è semplice Mitraglietta Mitroglo Ha segnato Immediatamente Va bene Così Meno uno Meno uno che te Ma vediamo quello che succede Oh Cristo Ma non staremo a fare una cazzata Il bello è che questo Non sa che siamo due persone Totalmente opposte Dai cazzo Subito a rischio Goal Oh vedi dal controllo No non è giusto Non ci stavo a pensare Oh infatti ma tu ci stavo Questa è una bella cosa ragazzi Questa è una bella Che toccare Come lo schermo Chiamo lo schermo Zitto Aria piccola Che cazzo guardi Ho chiamato lo schermo Da calcio d'angolo Va bene Cross L'hai messa una merda Metti il cross Metti il cross Neymar Dai Ma non mi ha parato Mannaggia la droga puttana Te puzza la fre Dai che lo faccio Ma che tiro da merda L'ho messo a controller Mannaggia la puttana Ho cercato subito il riscatto però Hai tentato un tiro da fuori Mei coglioni Dai che è tua Ma una profondità Benissimo Dai Iedin Dai Iedin Cross a mezzo Guarda Non te lo do Non te lo do Ma quanto c'è Mettere il girasse Eh ho capito Ci stanno pure le piccole Eccolo Mannaggia la troia Lo faccio E gazzi Cazzi Ammazzi Scrosserellini Oh E porca Demonio Tira Quanto c'è Quanto c'è Mettì Mamma mia Questo si sta cacassotto Secondo me Ha capito che c'è la doppia presenza Secondo me Dai che lo faccio Dai che lo butto Mario Mario Vai Dai Dai qua Hai recuperato all'errore Quindi 0 a 0 Vai Vai Ho fatto tutto io Ho preso quando L'ho pareggiato Ma Cazzo Non ho fatto un tempo a giocare Che coglioni Ah Dai che faccio Dai che faccio Guardi il secondo Dai che faccio Guardi il secondo Dai che faccio Guardi il secondo Tira Cossa Ti passa Zitto Scavaccia Eccolo Oddio Oddio Dammi qua Madonna Dai che lo fai Dai che lo fai Eccolo Sì Sì Fallo Fallo è mia Cerco la scavocella Scavocella No Ma che tocca a te La caleta Ballon pied Oh no L'ho uscito da solo No No Mi stai a far via i corpi Questa può essere Mamma L'apertura Oh Ma che t'ha fatto Oddio Gozze Scavocella De Geco Che da là Dovrebbe fare le papille Ciavatta Angolo Calcio d'angolo Mia Segnerò Il gol Del 3 a 1 Sì vabbè Come si fanno Le tattiche Scavi sul calcio d'angolo Con la freccetta a sinistra Proprio con la freccetta Vai Area piccola Ok Ma vedi che c'è il tempo Ho caricato poco La fa Mamma mia Un momento fa Ragazzi capivo ancora tutto la fa Eh sì E se i passaggi me li fanno rallentati Ma che cazzo vuoi da me Aspetta Beni Beni Mamma mia Neymar 2 a 0 per Gaboni Che gol ragazzi Che stai Cioè che fai tu Dovresti esultare che stiamo a vincere Invece te rodo il culo Sì Te credo Mamma mia Fabio I corpi Mi fai via Cerco la ciabatta Mamma mia Dammi qua Il team De la parata Il tiro Ma che palle T'ha parato pure questa Ma la palla non esce Cioè io te sto a guardare a giocare Hai rotto il cazzo Mamma mia Sto portiere è matto Cioè praticamente Il gioco più Oh ma stai 2 a 0 Potresti far 3 Madonna Corca puttana Maiale Puttana Guarda il TS Come fa la differenza Mamma mia Se vede che lui c'ha 89 E tu c'hai 62 62 Guarda Sto in difficoltà forte È finita Ho vinto Ho vinto Ma abbiamo vinto 2 a 0 per me Perché tu hai fatto un gol E ne hai subito uno E io ne ho fatti due Va bene Va bene Va bene Possiamo fare una classifica generale In cui ogni volta rimaniamo su quel punteggio E la classifica sale stagione dopo stagione Sì Partita dopo partita Sì Oppure possiamo rifare ogni volta da capo Scegliete voi nei commenti Va bene Io direi almeno 500 like Per il prossimo video Di questa serie Che ne dici Sì Va bene È fattibile Quindi Mettetevi al mi piace La continuiamo Mi raccomando Solo se arrivano 500 like Perché come vi ripeto Vogliamo portare solo contenuti Che interessano di più Quindi Commentate Condividete E iscrivetevi ragazzi Mi raccomando Va bene Detto questo Ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi Bella raga Ciao ragazzi Grazie a tutti.